Un punto a testa tra Montesilvano e Sant'Egidiese, un gol per tempo, meglio nella prima frazione gli ospiti, molto più convincenti i padroni di casa nei secondi 45 minuti. Montesilvano ora più 5 dalla zona play-out, per i vibratiani invece rincorsa la salvezza, che entra nel vivo e fondamentali saranno le prossime gare, soprattutto quelle in casa. Antignani in tribuna per squalifica ritrova Besi Maloku e lancia Appetito e Bassi davanti. Dall'altra parte Cichella deve fare a meno di Gentile e di Edeo Leuterio e va con Manari a supportare Nunez. Al sesto occasione in contropiede per i padroni di casa, si salva Dedeo in angolo. Al dodicesimo rigore chiesto dalla Sant'Egidiese per l'atterriamento di Di Giorgio. Gara che si accende in un amen, fioccano cartellini gialli, ne saranno 4 nella prima frazione. Al diciannovesimo ci prova Manari su calcio da fermo, blocca Ubertini. Al ventiseiesimo rischia il frittatone proprio Ubertini, Di Giorgio non ne approfitta. Tornano a farsi vedere i padroni di casa. Al ventinovesimo Petito scalda i guanti a Mattia Dedeo, bravo quest'ultimo a non farsi sorprendere. Al trentasettesimo penalti richiesto dalla squadra di Antignani, dopo una cinturata su Petito. Nel miglior momento del Montesilvano arriva il gol ospite, esattamente al quarantaduesimo minuto. Manari prende palla sull'out di sinistra, si accentra in area e fa partire un bel tiro che sorprende Ubertini, ingannato forse da una deviazione. Primo gol del numero 10 di Cichella da quando è tornata ad indossare la maglia Vibratiana. La seconda frazione si apre immediatamente con un'occasione locale, filtrante in area per Petito, risposta da Gran Bortiere di Dedeo proprio sul capitano del Montesilvano. All'undicesimo, secondo rigore di giornata richiesto dai padroni di casa, è sempre competito protagonista con le proteste vehementi proprio dei padroni di casa. Al dodicesimo ancora Dedeo, salva sul colpo di testa di Malocu. Cichella mescola le carte inserendo Grazioli per Gibellieri, primo cambio anche per i locali dentro Piovani per Balducci. Al diciottesimo Besin Malocu per il gol della domenica, tiro che non va lontano dalla porta di Dedeo. Al ventisettesimo Pietrucci da 30 metri, pallone che termina alto. Al ventinovesimo ecco il pareggio dei padroni di casa. Su calcio d'angolo è Barbarossa ad anticipare tutti di testa e abbattere Dedeo. Quarto gol stagionale del centrale difensivo di Antignani, sempre più difensore goleador. Manari ci riprova al trentasettesimo su punizione. Ubertini blocca in due tempi. L'ultima occasione del match arriva proprio allo scadere, al novantaquattresimo sui piedi di Besin Malocu. Bravo però ancora una volta Dedeo a non farsi beffare.